ciao amici pescatori e bentornati in quel detenere di pesca dopo la storia di sanpei del monte a kawiyaguchi e dopo la storia della fidel road recuperata e riportata agli antichi splendori che se volete vi metto se non mi sbaglio qua sopra dovrebbe essere o di qua insomma da una delle due parti sto creando una piccola playlist voglio fare un altro tutorial recuperato però un pochino da quelle che sono le fantasie del pescatore cioè ci sono quelle cose che diamo più scontate mettiamo in un angolo buttiamo via e tendiamo a ricomprare uno di questi esempi sono le fionde le fionde ragazzi costano piuttosto care e molte volte basterebbe cambiare l'elastico per riportarle all'antico splendore e poterci tornare a pescare per fare questo però ci vuole pazienza ma di base ci vogliono delle fionde rotte io direi che una due tre quattro cinque fionde rotte possano fare a caso nostro sono quelle che in questi anni ho accumulato perché sono un accumulatore seriale tendono a buttare via nulla o anche le cani da pesca rotte ma ora possono tornarci utili andiamo organizziamoci e ripristiniamo queste fionde per farlo dovremo recarci da universo pesca in piazza nei deiotti a ponte d'era insieme al buon jonata che mi darà tutti gli elastici e vediamo se si recupera anche qualche coppetta necessaria ad aggiustare le fionde e poi ci metteremo sul nostro banco di lavoro e le aggiusteremo infine vedremo il risultato finale questo video te lo dico già sarà un pochino lungo spero che tu mi accompagnerai in questa avventura ma andiamo a recuperare queste fionde siamo arrivati qui in universo pesca come sempre vediamo quando sono chiusi sto sentendo che ordinano il cibo quindi andiamo a disturbare proprio quando ordinano il cibo ciao ragazzi sì però noi staremo anche mangiando che tieni queste cos'è questo questo ammasso di aspetta aspetta seguimi 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 dove le aggiustiamo va bene recuperiamo dai ordinate da mangiare che poi si va a vedere la parete delle fionde dai ok abbiamo le fionde davanti andiamo a recupero allora qui abbiamo un po di sfionde di sto un po di fionde di trennand andiamo a vedere scomparso parli da fare di qua terzo abbiamo la famosa parete delle fionde perché avete già visto del video delle fionde che trovate il metto un dito verso l'alto o di qui o di qua di qua perfetto vai allora 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 vediamo cominciamo da questa qui di trennand che perché allora faccio una parentesi ragazzi arrivare in un negozio molto fornito vi dà questa possibilità di ritrovare anche i pezzi di ricambio per quelle cose come vi dicevo che tante volte lasciamo lì perché pensiamo che non sia possibile aggiustarle quindi andiamo a vedere le fiori fionde e vari elastici che si serviranno per trennand abbiamo proprio il suo esattamente l'elastico che montava originale e volendo potresti cambiarci anche il bicchierino perché questo comincia ad essere un po schiantato dalla dalla vecchiaia il bicchierino abbiamo sia quello suo originale che è questo qua oppure se vuoi può cambiarselo puoi mettercelo diciamo un rigido un rigido più grande un mesh però rifacciamo le pomero esattamente e questo siamo a posto e qui l'abbiamo sistemato ma nel ricambio ci abbiamo anche le fascette nel ricambio non ci sono le fascette ma in realtà quella di trenna non ne avrebbe bisogno però essendoci in quelle di stonfo che ora andiamo a comprare useremo al limite quelle allora qui abbiamo più opzioni nel senso che o andiamo sull'elastico di stonfo diciamo quello originale si vede che le religioni vendono quasi solo ovunque beh venduto quasi quasi solo sto ovunque che è questo qua e una la montiamo sicuramente così scusate se appoggiamo la roba in terra ma ti dice avendone due esatto ti volevo suggerire di montarci un elastico magari più morbido più duro ma facciamo magari questa qui che è uguale come base con un elastico un po' più morbido ok perfetto quindi ci andiamo a mettere il verde che è questo qua che c'è anche più fascette di quante le serve esattamente e qui invece possiamo metterci qualcosa di potente che è bella grossina possiamo mettere qualcosa di potente e possiamo andare o sull'elastico di trennan che abbiamo montato su quella prima o su quello ancora più potente che ci permetterebbe cambiando magari una coppetta di fare un po' di pastura di fare la pastura mettendoci una coppetta semirigida come questa qua beh a posto bene ragazzi andiamo in cassa ci siamo dimenticati un cadavere ci siamo dimenticati il top del top qui ci si fa il bigattino quindi ci mettiamo un elastico più morbidino vediamo perché devo anche capire l'ingresso dell'elastico sai che Nicola non ce lo possiamo mettere un elastico troppo fine perché i pioli su cui aggancia l'elastico sono abbastanza spessi quindi mettiamo il più leggero che possiamo abbinare ci mettiamo lo stronfo un pochino più leggero che è questo qua e andiamo seconda parte del video dedicata alla riparazione delle fionde andata siamo stati qua da universo pesca sempre con l'aiuto del buon giornata siamo riusciti a recuperare tutti gli elastici e le coppette per ripristinare le nostre fionde adesso ci vediamo sul banco da lavoro guarda quante pasture ci vediamo sul banco da lavoro per procedere alla giustatura di tutte le fionde che ci saluta quell'uomo laggiù ma bene allora in questo momento siamo qua siamo arrivati finalmente sul banco da lavoro e stiamo lavorando appunto per la realizzazione del tutorial delle fionde quindi allora vediamo un attimino quelli che andrò a sistemare sono questa facciamo vedere da tutte e due le parti 1 e 12 davanti alla alla gopro perché perché ci abbiamo da cambiare la coppetta perché comunque ci abbiamo da cambiare l'elastico e perché comunque a questa tipologia di aggancio vedete esterno quindi si può lavorare su questo aggancio qua e poi aggiustiamo questa questa abbiamo già la coppettina questa abbiamo gli elastici nuovi e questa ha un cambio piuttosto diverso rispetto all'altra quindi c'è un modo diverso di cambiare l'elastico ok allora per prima cosa andiamo a sistemare e a recuperare quello che è il piano quello che è la coppetta quindi andiamo a liberarla controlliamo quelli che sono i gancini se sono ancora in buono stato andiamo a togliere e a pulire quella che è la base la fionda è pulita se possiamo cominciare a lavorare ok quello che ho notato è che naturalmente questa coppetta non collima con l'elastico che mi ha dato il buon giocatore ecco perché mi aveva dato la coppettina pensavo fosse plastica rigida invece è morbida e morbiderima ok allora come vedete un elastico unico quindi andrà sdoppiato ma prima di sdoppiarlo andiamo la inserire quindi lo si va a calzare una volta messo da una parte lo mettiamo anche dall'altra ci aiutiamo un pochino con la saliva perché con la saliva scivola meglio posizionati entrambi a questo punto bisogna tagliare a metà ora la questione che questo elastico qui come puoi vedere è veramente esageratamente lungo dovremmo fare degli elastici un pochino più corti tipo da rimanere con il manico della fionda che vada integrarsi dentro la coppetta allora su questa parte qua perdeteci di cinque minuti ragazzi perché poi sarà quello che è il funzionamento della vostra fionda ok una volta che abbiamo presso le misure si taglia ok il risultato è quello che ci interessa a prendere la coppettina inumidiamo andiamo a inserire ora la nostra fiondina sembrerebbe pronta volevi ma non lo è perché se facciamo così perdiamo pezzi quindi prendiamo le fascette dati ne vero dotazione ok andiamo a infascettare il tutto e riusciamo mettiamo i baffi delle delle fascette in esterna in questo modo ok e lo stesso dalla parte della parte opposta a questo punto tagliamo le due eccedenze andiamo a ripetere la stessa cosa con la parte collegata alla base ed ecco qua abbiamo ripristinato la nostra prima fionda eccola quindi con gli agganci esterni qua e gli agganci esterni qua la nostra prima fiondina da bigattino è pronta adesso andiamo a recuperare invece questa ok che ha una tipologia di aggancio piuttosto diversa questa qua quindi dovremo vedere di risolvere capire un attimino come possiamo lavorarci siamo arrivati la seconda fionda quella che abbiamo detto di modificare mettendoci un elastico verde della stonfo allora la coppetta la recupero da un'altra fionda perché questa coppetta che è rotta e poi volevo qualcosina di un pochino più grande un pochino più capiente quindi qua non mi serve levare niente questo è l'elastico prendo il mio tagliaunghie col gancettino qualsiasi altro strumento va più che bene devo far saltare via il tappo bianco che si trova qua devo farlo saltare e poi riuscire a far scavallare da sopra non lo vedete da qua far scavallare questo pezzo in maniera tale da oppla la estrarre dalla parte opposta l'elastico ok qui due utensili bastano pari forbici un taglia unghie con una punta ok quindi andiamo a pulire qua recuperiamo dalla parte di qua quella che è la capo c la capuzela che è questa qui se non vola via eccola qua la capuzela non posso risca farvi vedere ok facciamo la stessa procedura anche nell'altro lato ed eccoci qua abbiamo le due capuzela come la chiamo io le due due pippolette dategli un nome voi due gancini ok si parte continuiamo in umidire perché ci permette veramente di far scorrere molto meglio il gommino perché di base è plastica ragazzi su plastica quindi nell'importante arrivare fino fino qua dovete arrivare fino alla parte diciamo di incrocio in maniera tale che possiate agilmente metterci la fascetta ok quindi la coppetta è pronta adesso la question semplice che certo non ci vorrà una cosa così lunga cioè troppo lunga ok quindi accorciamo un pochino per ottenere il risultato che vogliamo allora un'altra cosa che si può fare intanto è inizialmente con questa tipologia di fionde tagliare a metà poi si fanno passare i due tappini bianchi e poi ci regoliamo successivamente con i pioli prima di andare a prendere le misure facciamo un'altra cosa veloce andiamo a mettere le fascette anche su questa azione da qua allora ok ci manca da mettere un che bello aver ripristinato la flionda ci manca da prende la misura prendere scusate la misura sono toscano bimbi e quindi per me e prende non è prendere chiedo scusa allora una misura la prendo dall'alto spero si veda in questo modo e a questo punto dovrei poter tagliare un po se ci siamo ok a questo punto l'accorcio un pochino l'accorcio portandola non faccio fermo in questo la taglio praticamente al pari di questo ci faccio il segno così poi taglio calma 1 1 2 e adesso si passa inumidendolo a rimettere nuovamente il piolo prima è messo e ci siamo un po se si vede ci siamo adesso andiamo a finirsi l'ultima parte inumidiamo l'ultima parte di questa fionda poi ragazzi devo montare tutte le altre e non vi starò a far vedere naturalmente le altre fionde le finiamo le sistemiamo e poi magari ci vediamo a fine video con il risultato finale ok anche la seconda emessa andiamo a contatto e la e guarda anche la seconda fionda è pronta dai e due le abbiamo recuperate forza finiamo il lavoro ci vediamo al lavoro finito eccoci qua le nostre fionde sono state sistemate allora fiondina da bigattino leggera questa che è questa fionda per mais o un po più di bigatto questa che hanno data tutta la fiondona per il pellet questa un'altra fionda da bigatto per sparare più lontano e poi la bomba per la pastura che utilizzerà molto realmente a specialist dai andiamo in chiusura bene bimbi anche questo video è giunto al termine abbiamo preso del materiale di scarto e lo abbiamo grazie anche ai ragazzi di l'universo pesca ha trasformato nuovamente in qualcosa di utile utilizzabile per le nostre battute di pesca vedo questo vi ricordo di venirci a trovare sul nostro sito web www.itineradipesca.net di seguirci nel nostro network di canali di pesca 1 dove vedete i video delle pescate e dove vedete comunque i weekly e video un pochino particolari il secondo canale dove vedete questi tutorial e anche altri video e il terzo canale di pesca live dove potete trovare le repliche di tutte le live che facciamo ogni sera tranne quando faccio le notti al lavoro e tranne il sabato sera su youtube e la domenica forse stiamo già riorganizzando per twitch un bacione ragazzi tante care cose e come sempre il nostro motto catch release ciao vi imbaci